Puntata speciale di Polifemo, quella di stasera, ci occupiamo di un convegno davvero importante che è da Lustro a Taranto, un convegno che si svolge a Taranto nella città Bimare presso l'hotel Mercur Delfino. Corso pratico teorico, aggiornamento sulle patologie polmonari e presieduto e curato dal dottor Scoditti. E' un argomento di particolare interesse se consideriamo la situazione di Taranto e a tutti nota, anzi arcinota il quadro ambientale e quindi si registra un proliferare delle malattie. E allora quale migliore sedes materie se non appunto quella di Taranto? E' davvero uno sforzo notevole aver organizzato questo convegno con illustri relatori. Allora noi sentiremo appunto al termine di quasi tutte le relazioni, proprio attraverso le interviste, i punti fondamentali dei loro interventi. Prima di addentrarci con i vari interventi dei relatori, facciamo gli onori di casa con il dottor Scoditti che è poi colui il quale ha organizzato e presiede l'evento. Professore, la materia è molto complessa. Intanto la prima cosa che mi domando è, la cittadinanza si domanda, se si è registrato un incremento e in che misura delle patologie respiratorie e poi ovviamente le strategie terapeutiche, diagnostiche, farmacologiche e quant'altro da mettere in campo. Sì, sicuramente negli ultimi anni l'aumento della patologia respiratoria è ben documentata dai dati statistici. Basta pensare che nel 2015 ci sono state 8 milioni di persone morte per danni da fumo di sigaretta, cioè il 10% di tutti i decessi totali nel mondo. Consideriamo che in Italia si registra una mortalità intorno a 17.000-25.000 persone hanno che muoiono per danni da fumo, quindi si capisce benissimo che il problema è grosso. La patologia polmonare, la broncopedia cronica costruttiva, sembra che sia adesso collocata al quarto posto tra le cause di mortalità, quindi dopo le patologie neoplastiche e dopo le patologie cardiovascolari. Ebbene, il problema è grosso perché questo comporta un aumento dell'assenza del lavoro, un aumento della mortalità e ovviamente sono dei costi sociali notevoli e quindi noi dobbiamo fare in modo, e questa è la cosa fondamentale, di fare una diagnosi precoce. Diagnosi precoce significa intervenire negli stadi iniziali della malattia ma non quando invece il paziente viene da noi a dire io ho l'affanno. Questo è già una fase ormai tardiva, quindi noi dobbiamo essere bravi, chiaramente con l'ausilio dei medici, di medicina generale che sono il fulcro di tutta la situazione. Il punto di partenza, il primo approccio, l'interfacciarsi primario? Perché il paziente non va direttamente dallo specialista, pneumologo, ma va inizialmente dal medico di medicina generale, quindi il medico di medicina generale che deve stare attento ad alcune particolarità tipo fumatore, affanno, tosse, questi segni fondamentali servono per poter fare una diagnosi. L'esame precoce consiste praticamente in una semplice spirometria, ovviamente l'esame spirometrico non è tutto perché bisogna approfondire con ulteriori accertamenti, quali esami radiologici, la TAC, eccetera, eccetera. Ebbene, oggi noi siamo in grado di poter intervenire in stati pregoci della malattia con farmaci adeguati, parliamo di nuovi beta 2 stimolanti ultra long acting dei LAMA, di cui sarà il dottore De Benedetto il relatore di questa relazione. E quindi se noi interveniamo con questi farmaci possiamo ridurre la progressione della malattia, possiamo ridurre l'ospedalizzazione, possiamo ridurre la mortalità. E tutto questo è una cosa di fondamentale importanza per la gente che ovviamente è esposta non soltanto al fumo di sigaretta, ma è esposta purtroppo anche a fattori di inquinamento atmosferico. Taranto purtroppo non gode una grande fama perché con alcuni presidi industriali purtroppo è oggetto di questo danno. Tuttavia si stanno migliorando gli approcci a livello regionale, nazionale sulla prevenzione e tutto questo tornerà utile alla gente. Una parte di Polifemo dedicata alla giornata nazionale degli stati vegetativi, quarta edizione Coma Sud dal libro bianco al registro. Un evento che si sta tenendo in quel di Cassano-Murge, provincia di Bari, presso l'Istituto Maugiri. Vari i relatori intervenuti per affrontare le problematiche squisitamente scientifiche, sanitarie relative agli aspetti neurologici, riabilitativi, ma quello che conta è l'aspetto sociale. Gli aspetti etici relativi al paziente che è versa in stato vegetativo, gli aspetti sociali con riferimento ai familiari che assistono amorevolmente, chi purtroppo disperatamente si trova anche da decenni in stato vegetativo. La condizione dei pazienti in stato vegetativo è davvero drammatica e sono comprensibilissime le varie sofferenze innanzitutto fisiche che il paziente, proprio a causa dello stato di inerzia, di immobilità assoluta, c'è queste conseguenze che il paziente deve sopportare. E con lui tutto il sistema sanitario e familiare che lo assiste. Ma quando interviene la tecnologia, e la tecnologia d'avanguardia italiana riesce a dare sostegno, riesce a dare conforto e supporto a certe sofferenze, beh, è opportuno evidenziare queste realtà. All'insegna dell'espressione latina, melius vivere sempre possibile est. Siamo qui con Cosimo Chiffi, amministratore unico della ROAD 2000, che ha realizzato il lettino mobile roteante. Di cosa si tratta e la sua dicitura precisa? Ma è un letto robotico programmabile giorno e notte, in base alle esigenze della persona a lungo degente, indipendentemente dalle cause che hanno originato una tale situazione. Il nostro obiettivo è quello di migliorare al massimo possibile la vita di queste persone, perché come dice il nostro motto aziendale, vivere meglio è sempre possibile. Però non è solo un'enunciazione, è un dato di fatto che noi abbiamo realizzato tecnicamente, perché per migliorare la qualità della vita e prevenire le famigerate complicanze da immobilizzazione, bisogna muovere il paziente ogni due ore in tutte le modalità possibili. Oltretutto, proprio questa realtà tecnologica consente di ridurre sensibilmente lo sforzo e la fatica degli operatori sanitari. Indubbiamente, poiché si muove autonomamente, muovere un paziente a letto non necessita più di sforzi fisici, di minimo due operatori, di due persone, ma è sufficiente una sola persona che attivando le movimentazioni del letto riesce a fare tutto ciò di cui il paziente ha bisogno. Amici telespettatori, eccoci con una puntata insolita, diversa di Polifemo. Infatti, questo oggi Polifemo si occupa di medicina, si occupa di un importantissimo convegno che vede protagonista la Puglia e la Basilicata. Infatti, ci occuperemo dell'incontro scientifico, argomenti di neuroscienze organizzato dalla Società di Neuroscienze Ospedaliere Appulo Lucana. Un incontro che si è tenuto presso la sala convegni della Cittadella della Carità a Taranto. Dunque, parliamo di neuroscienze, parliamo di neurologia, parliamo di neurochirurgia. È un convegno strutturato molto ma molto bene in maniera davvero capillare. Infatti, c'è tutta una serie di relazioni relativamente a questi argomenti e anche la trattazione di vari casi clinici. Ripeto, Polifemo ha deciso per un venerdì di evadere, di uscire dal suo alveo naturale, ma lo dovevamo fare perché un'opportunità del genere, un momento di crescita, vuoi per gli aspetti della medicina ionica, vuoi per i contenuti trattati di livello nazionale, era opportuno che Polifemo assumesse un'altra veste. La trasmissione sarà così strutturata subito dopo le relazioni dei vari soggetti intervenuti, noi avvicineremo loro alla nostra telecamera proprio per farci un sunto di quelle problematiche affrontate. Partiamo dunque con questa interessantissima serie di interviste. E diamo in là, apriamo questa raccolta di interventi del convegno di oggi con il direttore generale della ASL di Taranto, l'avvocato Stefano Rossi. Lei nel suo intervento ha fatto riferimento ad una filiera di eccellenza costituita appunto dalla neurologia, dalla neurochirurgia e dalla neuroradiologia dell'ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Una serie di interventi, quelli posti in essere da questi reparti, che appunto sottolineano, che evidenziano la qualità del servizio e che sono in grado di contrastare questa esterofilia distorta, questi viaggi della speranza che grazie al cielo non hanno più ragion d'essere. Assolutamente. Questa è un'eccellenza che io qui ho ritrovato a Taranto e di cui mi compiaccio per la collettività. Veramente, il dottore internò come responsabile della neurologia, che tra l'altro vede attivato al suo interno una Stroke Unite che è veramente in grado di approcciare le tematiche più gravi di questo tipo di patologie. Oltre che la neuroradiologia e la neurochirurgia, noi cominciamo ad essere attrattivi. Cioè noi cominciamo ad avere mobilità attiva. Pazienti che vengono qui a Taranto proprio per riuscire ad avere questo tipo di prestazione. C'è un incoming. Assolutamente sì. Questi incontri oggi servono a pubblicizzarle meglio e di questo anche ringrazio voi. E l'importanza anche di correlarsi con altre realtà italiane del sud e penso appunto all'incontro di oggi nell'ambito della società di neuroscienze ospedaliere Appulo Lucane. Quindi un'apertura con altre realtà. Siamo pochi, dobbiamo fare sempre massa critica. Il confronto con gli altri è sempre un'occasione virtuosa di crescita.